Alessio Muselino per Daily Basket, siamo con Toto Forrai al secolo Andres Pablo, ma vabbè. Toto, partita ha vinta, abbastanza superta, poi nell'ultimo quarto Trento ha pigiato sull'acceleratore e Brescia, sì è Brescia ancora, mi confondo con Brcic l'anno scorso, Napoli è rimasta in scia ma non è riuscita a passare nel finale, ma l'avventura non è riuscito a mettere la tripla sulla sirena e questa, con te non metteva sempre la tripla sulla sirena. Insomma, ho parlato solo io, dimmi un po' qualcosa a te. No, niente, sappiamo che era una partita dura, Napoli gioca bene anche se erano in pochi, comunque noi abbiamo toccato bene la zona dopo l'inizio che magari ci avevano messo in difficoltà, alla fine eravamo un po' più freschi, quindi abbiamo difeso un po' più forte e ci è andata bene. Già, quando Trento è passata, Forrai non ha offerto una prova diciamo impeccabile, vengono in mente alcuni liberi sbagliati nel finale, però quando Trento ha accelerato, Forrai c'è stato, ha giocato pivot, ha giocato playmaker, guardia, ha fatto tutto. Sì, diciamo che faccio quello che la squadra bisogna, per fortuna i tiri liberi sbagliati non hanno pensato più di tanto, quindi magari potevamo chiudere la prima con i tiri liberi, però per fortuna non hanno pensato, quindi dobbiamo continuare a lavorare forti e sicuro mi allenerò un po' di più in settimana per migliorare i tiri liberi. D'accordo, grazie. Ti lascio agli autografi. Ciao.